immaginate di essere soli in casa seduti sul divano sulla poltrona davanti alla tv mentre fuori infuria un temporale siete persi nel vostro programma preferito quando di colpo ciò che state guardando si interrompe bruscamente lasciando il posto a una sequenza di immagini che non vi spiegate e che vi inquietano profondamente se una situazione simile vi è capitata allora avete avuto una visione di ciò che i parapsicologi chiamano il canale morto ecco ciò che si sa riguardo a questo spaventoso evento senza spiegazione le immagini compaiono sempre all'improvviso generalmente in un orario compreso fra la mezzanotte e le quattro del mattino sono varie caratterizzate dalla loro illogicità sono slegate fra loro di breve durata con un contenuto macabro inquietante scioccante sono sempre in bianco e nero o color seppia oppure sfocate tra ballanti e mosse come se fossero riprese a mano non di rado chi li osserva riesce a sentire il respiro del video amatore quasi nella totalità dei casi sono accompagnate da sottofondi sinistri e distorti musiche lamentose di flauto a volte persino brani di musica classica oltre a ciò chi ha assistito tale fenomeno dice che durante la proiezione si odono altri suoni quali pianti di bambino porte che sbattono sospiri gocciolì d'acqua scariche elettrostatiche versi di animale le persone che hanno dato testimonianza del canale morto affermano che in tutto le immagini durano dai 5 ai 15 minuti e che si interrompono da sole allo stesso modo in cui compaiono generalmente la gente afferma che dopo la visione il programma che stavano guardando prima della comparsa di tali immagini spaventose ricomincia esattamente da dove si era interrotto come se il tempo non fosse trascorso numerose sono anche le testimonianze di coloro che affermano che mentre le sequenze comparivano sullo schermo gli orologi si fermavano quasi sempre nelle immagini del canale morto compaiono personaggi famosi deciduti alcuni affermano di aver visto bob marley john lennon marvin gay o jim morrison ma anche james dino fred astaire o henry fonda e molti altri nomi noti del cinema e della musica internazionale ormai defunti nel settembre del 2009 a san diego una casalinga si spaventò moltissimo in quanto testimone di una sequenza di immagini davvero spaventose sul suo televisore in piena notte disse che quello strano programma non aveva l'audio ma si udiva costantemente una voce che si inghiozzava chiedendo perché io perché ora oppure lamentandosi fa freddo voglio casa mia nell'ultima immagine si vedeva un uomo magro e nudo seduto su una sedia calvo si copriva il viso con le mani quando le abbassò come rivolgendosi direttamente alla donna disse digli che non sono morto digli che sono qui digli che non sono morto a quel punto il canale si interruppe e quell'uomo era michael jackson ad oggi nessuno sa con certezza quali possano essere cause e spiegazioni di questo fenomeno alcuni teorizzano una programmazione pirata anche se non se ne comprende lo scopo altri invece pensano che la tv possa talvolta sintonizzarsi sull'aldilà catturando delle sequenze di pensiero che appartengono alle persone defunte seguendo tale ipotesi molti si sono convinti che le persone famose quelli che maggiormente hanno avuto a che fare con i mezzi di comunicazione audiovisivi da morte tendano a usare gli stessi mezzi per proiettarsi nuovamente nel mondo il canale ha effetti paralizzanti su chi lo vede molti hanno avuto attacchi di panico, ansia si sono sentiti inspiegabilmente attratti dalle immagini sebbene ne fossero scioccati al punto da non riuscire a cambiare canale né a spegnere la televisione solo in un caso nel 2000 pare si sia verificato addirittura un decesso a causa di tale fenomeno il 45enne Harold Messler di Pontiac nel Michigan si suicidò nel suo appartamento in cura da uno psicologo per una depressione aveva riferito al medico che i morti volevano comunicare con lui attraverso la televisione inviando gli immagini così orribili da impedirgli di dormire la faccenda si ripresentò più volte inducendola al suicidio grazie a tutti